ah così punto l'aio eh lo vedi? eh vedo si un parte? lasci devi ripiglia tutta la fumata? si 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 e ormai sto qui vai un altro vai buon ma che ci metti su youtube? che gli esisci? è nato Gesù Bambino ah 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 ti asso e buttatela su barri io ti chiamo bene ero di Rodi ero di Rodi ti ha dato le maldive ero di Rodi ti ha dato le maldive Nella grotta non trovo nessuno, eppure la sinera l'ho trovato, non mi hanno risposto. Pozzo filato insomma ce l'ha aspettato. Che temi hai nati di queste giornate? Sono tessere per me, sono tessere i giornate. E ci dite che Stano Neve ha fatto la spiace? Ha fatto la spiace. Che devo fare? Che devo fare? Teni la così fermo. Così fermo guarda l'uomo. E' due notti caso che sto a giro per Beclemme, due notti, non c'è perso i trovanti. Giuseppe e Maria mi sono delegati nella pagliaia, e lì là non c'è perso. E perché? Nella pagliaia ho trovato la culla, è vuota la culla perché, e deve sgravar stasera a mezzanotte, come fai? Ommai non ce la fai. Ti è scappato? Non ce la fai, non ce la fai. Ti è scappato quel pallonone? L'anno scorso a Tentavore e Magi, niente, ma che mi riprendi? E poi ci tieni i dito davanti. La seta la distrugge, eh. No, ma è il bello che le manda in internet. Me le mette in internet, poi le puoi pagare in moce, capito? Le manda in tutto il mondo, poi, eh. E poco si vede così. Si vede così? Si vede, si vede. No, aspetta. No, aspetta. Grazie a tutti.